Sono ripresi gli incontri del caffè letterario nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte, in Via Confienza 14 a Torino, occasioni per conoscere opere di autori ed editori piemontesi ogni giovedì alle 15.30. Il prossimo appuntamento in calendario è il 29 gennaio, con la presentazione del libro Water for United, Agire sulla memoria dell'acqua per cambiare il mondo di Alice Basso.